Musica Ci troviamo a Porto Santo Stefano, nella cornice dell'Argentario, una località che non ha bisogno di presentazioni, in occasione del quarto campionato italiano di kayak fishing, organizzato dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva in collaborazione con Kayak Fishing Italia, di cui faccio parte, la prima associazione di kayak fishing in Italia per questo momento. Con la Federazione abbiamo collaborato alla stesura anche di un regolamento ad hoc che prevede un modo nuovo di andare per mare, un modo un pochino più responsabile. Ci sono, ora non entro troppo nel dettaglio, ma dei punti nel regolamento come ad esempio dove è consentito catturare un massimo di cinque esemplari per ogni specie che chiaramente tende a preservare il prelievo che fino ad oggi è stato abbastanza sconsiderato non chiaramente nella pesca sportiva ma in tutto il resto. Questa cornice ci ha permesso di svolgere su questo campo gara due manche, una del sabato e una della domenica, della durata di cinque ore ciascuna, dalle sette alle dodici, dopodiché ritrovarci ad un tavolo come in tutte le occasioni in cui normalmente usciamo a pescare. In questo momento possiamo andare a vedere come si allestisce un kayak e come un kayak si ritiene pronto per l'uscita con tutte le attrezzature. Come potete vedere questa è una tipica impostazione di un kayak rettamente studiato per la pesca, per ogni tipo di pesca perché in questo caso come potete vedere abbiamo una canna da traina con la quale normalmente facciamo traina con il vivo ma anche con degli artificiali di una certa sostanza, la tipica montatura, poi abbiamo delle piccole canne che ci occorrono per fare le prede un pochino più piccole, parliamo di occhiate, sugarelli, aguglie, queste sia per procurarci il vivo oppure come è il caso di questa gara per fare anche del pesce che va a punteggio. Questa è una delle classiche canne da light jigging e questa è una, diciamo così, la canna di riserva per eventuali mangianze e comunque spinning in generale. La dotazione del kayak comprende l'uso dell'ecoscandaglio, del GPS, queste sono basette che possiamo trovare in commercio, i kayak quasi tutti ormai sono predisposti per il montaggio di queste basette con gli attacchi rapidi, portacanne, accessori ce ne sono di ogni tipo quindi è facile sbizzarrirsi. Poi chiaramente ci sono le dotazioni, diciamo standard di ogni kayak, quindi gavoni stagni, dentro i quali riporre eventuali dotazioni di sicurezza se ci allontaniamo particolarmente dalla costa, delle dotazioni di sicurezza fanno parte il laccio ferma pagaia, per la pagaia, e ogni genere di accorgimento che possa permettere di non perdere assolutamente nessun tipo di attrezzatura. Come i lacci, come vedete la cassetta è assicurata, una soluzione come vedete abbastanza semplice, però molto funzionale, con dei tubi idraulici facciamo i portacanne da riposo. E poi ci sono i portacanne incassati nello scafo che sono provvisti anche di crocerina, per cui possiamo farne un'imbarcazione proprio da train a tutti gli effetti. Per quanto riguarda la sicurezza vale sempre la pena spendere una parola in più, perché come potete vedere abbiamo sempre comunque indossato il giubbotto salvataggio, che nei casi di anche vogliamo prendere per esempio un malore durante l'azione di pesca, se questo giubbotto è di quelli autoconfiabili ci permette anche di stare a galla e di stare in posizione per poter respirare. È successo più di una volta in cui questi supporti ci hanno fatto veramente molto comodo. Ed ora siamo pronti per la nostra battuta di pesca, a più tardi. Grazie a tutti. Siamo a Porto Santo Stefano per la disciplina del kayak, è la quarta prova nazionale di kayak. È uno sport nuovo, abbastanza diffuso in altre regioni, ma qui in Maremma è la seconda volta che viene effettuata. Una fu fatta nel 2008 e questa è la quarta prova nazionale finale che si svolge in due marche. Una ieri è stata effettuata e una effettuata stamani mattina. Questa è una disciplina che va valorizzata in tutti i sensi, sia perché viene effettuata con lo spinning e con la piccola traina dal kayak. È una disciplina che sta prendendo campo e andrebbe valorizzata in tutti i sensi. Perché? Perché è una bella cosa, è uno sport meraviglioso. Sia per l'atleta che lo fa, sia per la visuale, per come viene gestita, per come viene effettuata. È una cosa che, come ripeto, la federazione mi auguro che voglia continuare a fare questi campionati perché sono veramente campionati d'eccellenza. È una disciplina abbastanza ecologica perché non ci sono, diciamo, motori, non c'è nulla. La disciplina è bellissima. Io penso che riguardo l'ecologia, riguardo la natura, riguardo quello che è, diciamo, il reparto, come si può dire, naturale, rimane. E per noi questa è una bella soddisfazione di vedere questa gente che non inquina, non fa nulla e si diverte a chiappare pesci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono Massimiliano Giacic, giudice federale, giudice della gara in argomento. Stamattina con le condizioni meteorologiche che vanno a incontrare i kayak che utilizzano come movimento le pagaie chiaramente ricercano punti più coperti dal vento. E per questo l'assemblamento dei kayak è in questo momento nella zona. Le tecniche principali che possono utilizzare a termini di regolamento sono l'utilizzo di un solo sistema pescante nel corso della gara, che può essere sia con la canna o a mano. Le tecniche particolari che vengono utilizzate sono principalmente tre, ovvero il jigging, lo spinning e la traina. La gara si sta articolando soprattutto su un numero limitato di specie, tra cui i sugarelli e le occhiate. Grazie a tutti. La pesca di Aramini Gianluca che è in lotta per vincere il titolo di campionato italiano, ha agganciato un pesce, probabilmente dovrebbe trattarsi di un'occhiata. Ecco che si appresta a salparla, ha preso il pesce che lo mantiene in corsa per la vittoria del titolo. Una bella occhiata. In questo momento seguiamo l'azione di pesca del numero 5, Marini Gianluca, che con la tecnica del jigging dovrebbe aver agganciato un pesce. Un bel sugarello che viene salpato e issato sul kayak. Allora seguiamo il numero 11, Francioli Daniele. Impegnato nel recupero di una preda. Un'occhiata che lo rimette in gioco nella classifica. Un'occhiata che lo rimette in gioco. Un'occhiata che lo rimette in gioco. Un'occhiata che lo rimette in gioco. Grazie a tutti. 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 Un saluto a tutti da Porto Santo Stefano, da me e da Kayak Fishing Italia. Ci vediamo al prossimo anno. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.